Urban Center sarà uno spazio dedicato al cittadino ma anche al turista di cui il Comune di Sandonà intende dotarsi entro il prossimo anno spazio di comunicazione su progetti e strategie di sviluppo a livello territoriale La settimana scorsa la Giunta ha deliberato l'istituzione di un Urban Center che è un luogo fisico, intendiamo proprio praticamente gli spazi che grazie alla disponibilità del Consorzio di Bonifica potranno essere occupati a partire dal mese di gennaio al piano terra in parte all'attuale Caffè Borsa dove i cittadini potranno sapere che cosa sta portando avanti l'amministrazione in termini di politiche sulle materie dello sviluppo urbano e quindi i progetti sulla cosiddetta porta nord e quindi sul polo intermodale, i progetti per quanto riguarda il centro e la sua rivitalizzazione, per quanto riguarda le zone industriali ad esempio oppure la scelta già assunta di restituire alla campagna 30 ettari che tornano terreno agricolo ma che erano prima destinati all'urbanizzazione come anche le politiche legate allo sviluppo della città Alcune di queste informazioni saranno chiaramente ad uso di turisti visto che da un anno Sandonà è attraversata dalla ciclovia dell'amicizia che partendo da Monaco già sta producendo i propri effetti per chi decide di arrivare a Venezia in bicicletta costeggiando il piave nel tratto che da 90 porta poi verso Caposile e verso Punta Sabbioni significa che anche il turista avrà la possibilità come accade in molte città soprattutto turistiche ma non solo di trovare una I di information dove potrà acquisire informazioni su dove dormire, dove mangiare, che cosa vedere di interessante nella nostra città Oltre al luogo fisico in cui poter richiedere informazioni verrà predisposto anche un apposito spazio digitale integrando le varie piattaforme con quelle del progetto WeGovNow del programma Horizons 2020 che combina le caratteristiche dei social network con strumenti per la formazione dell'opinione collettiva e il riutilizzo dei dati del settore pubblico un ulteriore strumento per coinvolgere il cittadino a partecipare attivamente alla vita della città in un mondo sempre più digitale Sì, per il cittadino, allora intanto conoscere quali sono le occasioni per partecipare a eventi ma anche per prendere parte a dei gruppi che possono essere associazioni culturali piuttosto che di volontariato come anche di conoscere quali sono le opportunità offerte dal centro sia nella sua dimensione pubblica e quindi uffici, servizi cito ad esempio l'ufficio biciclette piuttosto che lo sportello cosiddetto casa buona per chi vuol sapere che vantaggi ci sono oggi a tenere i soldi anziché in banca chi ancora riesce a risparmiarli investendoli nella propria abitazione e quindi riqualificandola anche per aumentarne il valore per diminuire i costi ma soprattutto per produrre meno CO2 che è una sfida che interessa tutti a vantaggio delle prossime generazioni ma anche per quale può essere l'offerta di soggetti privati che possono chiaramente in questo modo far conoscere qual è la possibilità di partecipare ad eventi o anche aspetti commerciali tant'è che su questo progetto di riqualificazione del centro abbiamo come partner le associazioni di categoria che sono ASCOM, che sono Confartigianato e quegli altri soggetti che rappresentano categorie particolari che sono stati